In questo capitolo parleremo di come vengono negoziate le azioni in borsa, di come si fa a valutare le azioni, quale tasso di capitalizzazione utilizzare, il prezzo delle azioni e l'utile per azioni, l'acronimo è in inglese earning per share, che cos'è il VAOC, ovvero quello che non riusciamo a spiegare, lo definisco io quello che non riusciamo a spiegare, i flussi di cassa attualizzati e il valore di un'impresa, ulteriori trucchi per passare l'esame. C'è una premessa filosofica relativamente alla valutazione delle azioni, allora il mondo non è bianco, non è nero, è grigio, questo si applica alla finanza così come si applica a qualsiasi altro aspetto della nostra esistenza terrena. Quindi quando si parla della valutazione delle azioni si parla dell'efficienza dei mercati, che cos'è l'efficienza dei mercati? Una parola l'efficienza dei mercati e l'efficienza dei prezzi è molto particolare che fa riferimento a una teoria che vedremo seppur rapidamente nelle prossime lezioni, sostanzialmente questa teoria dice che non è possibile guadagnare in borsa perché i prezzi riflettono le condizioni correnti dello stato di salute delle aziende, quindi i mercati sono efficienti se riescono ad apprezzare in maniera corretta le azioni. Ovviamente io posso dire che il mercato delle azioni è più o meno efficiente, posso dire che il mercato degli immobili è più o meno efficiente, come posso dire che il mercato del lavoro è più o meno efficiente. Un mercato del lavoro efficiente è un mercato che mette incontro domande e offerte di lavoro in maniera pronta, rapida, tale per cui non esistono frizioni, quelle che gli economisti chiamano frizioni, nell'incontro tra domande e offerte. Cioè non c'è nessuno che vuole lavorare che non riesce a trovare lavoro, non c'è nessun dottore di lavoro che vorrebbe assumere qualcuno che non riesce a trovarlo. La risposta alla domanda se i mercati finanziari sono efficienti o non efficienti, fino a poco tempo fa era dogmatica, nel senso che quando io ho fatto l'università, se io dicevo che i mercati erano inefficienti mi bocciavano. Oggi in realtà il mondo è cambiato e con l'arrivo della finanza comportamentale la teoria economica della finanza riconosce che i mercati finanziari hanno delle grandi inefficienze. Quindi diciamo che possiamo riassumere dicendo che i mercati finanziari non sono né efficienti né inefficienti, a volte sono efficienti, a volte sono inefficienti. Non esiste il bianco e il nero, esiste il grigio. Per fare una similitudine discutere se i mercati finanziari sono efficienti o non efficienti è come di chiedersi se l'uomo sia intimamente buono o cattivo. Possiamo stare qua a discutere mesi se l'uomo sia intimamente buono o cattivo. Andiamo a vedere qualche definizione tra mercato primario e mercato secondario. Il mercato primario è quello delle emissioni, i famosi IPO per quanto riguarda le azioni o i collocamenti di obbligazioni per quanto riguarda i bond, obbligazioni, bond in inglese obbligazioni. Il mercato secondario è il mercato in cui si negozia di azioni già emesse e di obbligazioni già collocate. Riferendosi al mercato immobiliare che è più facile comprendere, è il mercato primario, è il mercato delle case nuove, è il mercato secondario, è il mercato delle case usate. Ci sono diversi tipi di valore di un'azienda o di un'azione, quando ovviamente dico azienda o azione sono sinonimi, nel senso che il valore dell'azienda diviso il numero delle azioni dà il valore dell'azione. Il valore contabile, il book value, che è il valore netto dalla società secondo bilancio di esercizio. Come si fa a valutare il valore contabile di un'azione? A quale voce corrisponde allo stato patrimoniale il valore contabile di un'azienda? al totale dell'attività, che è uguale al totale delle passività. Per essere, se voi pensate, il totale delle passività non è il totale delle fonti di finanziamento, cioè i soldi che voi avete messo dentro l'azienda. I soldi che voi avete messo dentro l'azienda si traducono dal lato sinistro dello stato patrimoniale in attività, che vanno dalla più liquida alla più illiquida. Quindi dove vanno? Vanno nella cassa, vanno nel conto corrente, vanno nelle tasche dell'imprenditore, vanno in beni immobili, quindi in automobili, vanno in computer, vanno in beni immobili, quindi in infrastrutture come immobili, uffici, negozi, macchinari, impianti. Quindi i soldi entrano dalla porta del passivo e vanno a finire nella finestra dell'attivo, quindi attivo uguale a passivo. Il valore contabile di solito è il valore dell'attività, che è un valore tra virgolette minimo, perché è il valore sostanzialmente dei cespiti. Valore di liquidazione, che cosa succede se io a presti di mercato vado a vendere tutto l'attivo? Il bilancio valore di mercato è il bilancio basato sul valore di mercato dell'attività e delle passività. Vabbè, ci sono distinzioni sostanzialmente che non ci importano. Al nostro livello conta sapere che noi abbiamo un valore contabile, che è il valore contabile dell'attività, cioè degli immobili che sono all'interno della pancia dell'azienda. E abbiamo un valore che è dato dal flusso di cassa futuri. Quindi noi abbiamo un fair value, un dato dal discounted cash flow, e abbiamo un valore contabile che deriva dal totale dell'attivo. Sono due valori che raramente coincidono, perché sono una misurazione diversa dall'attività aziendale. Ricordate che avevamo detto che variabile di stock, variabile di flusso, variabile di stock è la fotografia al valore dell'azienda al 31-12, c'è il totale dell'attivo, o che è uguale al totale passivo dei soldi che ho messo dentro l'azienda. La variabile di flusso è un video girato dal 1 gennaio al 31 dicembre, di quanta acqua è passata, di quanti soldi sono passati all'interno, non del canale, ma dell'azienda. Quindi il valore dell'attivo è una variabile di stock, il conto economico esprime variabili di flusso. Il prezzo di riferimento è una cosa che esiste solo nella borsa italiana, che ha il prezzo medio ponderato, dell'ultimo 10% la quantità scambiata, come i titoli italiani sono tipicamente illiquidi, tranne una sessantina, si utilizza in questo modo per avere un prezzo di riferimento che peraltro non usa nessuno. Come si fa, e veniamo alla formula, a valutare il rendimento atteso di un'azione? il rendimento atteso di un'azione è dato da due componenti, una componente reddituale che è il dividendo che io incasso, più il capital gain, cioè l'incremento capitale del prezzo dell'azione, dal momento 0 al momento 1. Ci siamo? Io come posso guadagnare da un'azione? O da un'azienda? Posso guadagnare con i redditi che incasso e con l'incremento del valore capitale delle azioni? Ovviamente questo esempio non ha nessun senso perché dice l'azione Fledgling Electronics è scambiata a 100 per azione e si aspetta di vedere crescere il prezzo dell'azione fino a 110 fra un anno e si aspetta di vedere crescere. Io quando ero giovane si aspetta di vedere crescere il prezzo dell'azione e poi calcola il rendimento, no? Come se dicessi, Tomasini si aspetta di sposare Belen l'anno prossimo e quindi andiamo a fissare il viaggio di notte, cioè è un film che mi sto facendo io, è la stessa cosa, questo esercito è un film che quello che ha fatto, si aspetta. La formula può essere scomposta in due parti, come avevo detto prima, il dividendo dell'anno prossimo fratto il prezzo corrente più l'incremento di prezzo dell'azione fratto il prezzo corrente. Questo tasso di rendimento che è chiamato anche tasso di capitalizzazione è la famosa formula che ci ricordiamo della rendita perpetua, per cui il prezzo è uguale alla cedola fratto R, ricordate, prezzo uguale alla cedola fratto R, prezzo del valore dell'immobile uguale affitto fratto R, dove R erano i famosi quattro numeri magici che avevo detto, residenziale 5%, negozio 8%, guardate, abbiamo visto che esisteva anche la formula della rendita perpetua con crescita costante che era data da G, ovviamente siccome R viene ridotto da G ed R al denominatore più piccolo R più P è grande, quindi tanto più elevato il tasso di crescita degli utili, tanto più sarà elevato il valore dell'azione. Ci siamo? Io ovviamente non mi perdo nelle scomposizioni di queste formule, perché se ci mettiamo a fare anche l'algebra di queste formule non finiamo più. Voi notate ovviamente che noi quando andiamo a calcolare un R, un tasso di capitalizzazione, che cosa facciamo? Facciamo dividendo fratto P0 più G. G, noi avevamo detto che il tasso di crescita degli utili sì, ma com'è connesso G con P? Col prezzo. È connesso con la formula di sopra, dividendo fratto R meno G. Quanto più aumenta R, tanto più aumenta G, tanto più diminuisce R. Quanto più diminuisce R, tanto più aumenta P. Ci siamo? Ed è logico, se io mi attendo che ci sia un incremento degli utili, ovviamente compro l'azione, i prezzi dell'azione vanno a rialzo. Quindi R è uguale a dividendo fratto P0 più G. Ricordate questa formula? Questa formula è quella che abbiamo visto con l'obbligazione, è esattamente la stessa. Quindi io ho il prezzo attuale dato da i flussi di redditi futuri, più pH che è il valore terminale. Ci siamo? Non è niente di nuovo. Cosa abbiamo fatto oggi nell'esercizio sul calcolo del flusso di cassa operativo? Abbiamo fatto esattamente la stessa cosa. Abbiamo calcolato invece del dividendo il flusso di cassa operativo di ciascun anno dei quattro anni che c'erano nell'esercizio. Poi vi ho detto che non c'era il valore terminale, ma io potevo mettervi un ben mille di un miliardo di valore terminale e voi cosa avreste fatto con questo mille nella colonna 5? Me l'avreste scontato a 1 fratto 1 più R alla quinta. Vero? Ovviamente qui c'è un esempio, ma non dobbiamo fare l'esempio. Abbiamo visto stamattina il calcolo dei flussi di cassa operativo e abbiamo visto il calcolo di obbligazione. Quello che noi dobbiamo andare a vedere, che è molto interessante, è la rappresentazione grafica di quello che avevo detto in termini matematici alcune lezioni fa. Quando noi andiamo a calcolare il valore di un asset produttore di reddito con la formula della rendita perpetua, andiamo a creare un cortocircuito nella testa dello studente e dice, ma come? Un'azienda non vive in eterno, perché è perpetuo? Perpetuo significa l'infinito. Le stesse cose abbiamo detto di un immobile, ma come faccio? C'è l'immobile e prima o poi crollano. Stai viaggiando, è ridolcissimo, così che guardavi la penna, il viaggettino, e si riparte subito più fresco. Quindi noi avevamo detto che si creava un cortocircuito, perché gli asset, un immobile non vive in eterno. avevamo detto che sostanzialmente, avevamo detto verbalmente, che la differenza tra 30 anni in termini di valore terminale è infinito, è uguale. Cioè, quando, e ve lo spiego in maniera brutale, voi vedete che il pH, tanto più aumenta h, ci siamo che tanto più 1 più r aumenta? Quanto più 1 più r aumenta? Tanto più 1 fratto 1 più r, che cosa fa? Diminuisce. Quindi quanto più allungo la mia serie di dividendi attualizzati al valore odierno, tanto più il mio pH si abbassa. Quanto si abbassa? E qui vedete. Nell'arco tra i 20 e i 30 anni tocca quasi lo zero. Ovviamente dipende poi dal tasso di interesse. Più è alto il tasso di interesse, più si annulla. Se voi lo fate 10% è anche prima dei 30 anni. Ci siamo? Che cosa significa? Significa che quando andate a valutare un'azienda o un immobile, se lo valutate a 5-10 anni, dovete includere il valore terminale. Ci siamo? Ma se lo valutate a 30 anni, o lo valutate a 20 anni, ma con un tasso di sconto, ad esempio, superiore al 6-7%, il problema del valore terminale non si pone. come fate a prendere la decisione? Semplicemente mettendovi davanti a un foglio Excel e andando a vedere il risultato, l'effetto che fa, come diceva la canzone, 1 fratto 1 più i, dove i, per esempio, il 10% alla 10. Se voi vedete che 1,1 elevato alla 10 e messo a denominatore di 1 vi dà un numero bassissimo, voi sapete che il problema del valore terminale non l'avete. Ci siamo? Quindi voi non avete, dovete, cioè, comprate una casa nuova, se comprate una casa nuova, non avete il problema del valore terminale. Se comprate una casa degli anni 60-70, dovete andare a vedere qual è lo stato di manutenzione. I seramenti, la coibentazione, il rifacimento della copertura, l'intonaco esterno, siamo? Quindi è molto probabile che se comprate una casa degli anni 60-70 che non è mai stata ristrutturata, dopo 10 anni o 15 anni dovete andare a mettere mano a, se non prima, al vostro intervento e quindi dovete valutare quello che è l'impatto del valore terminale. Ci siamo? Quindi quando valutate le azioni, per tassi di interesse superiori a 6-7% e per periodi di tempo superiori ai 10-15 anni, più passa tempo e più si alza il tasso, più il gioco è facile, contano solo i flussi di reddito. Ci siamo? Ovviamente avevamo visto il rendimento del dividendo, che è il dividendo fratto presso, dividend yield, cosiddetto dividend yield, abbiamo parlato anche a cash ieri, abbiamo visto il rendimento del capitale netto, il ROI, return on equity, utile fratto capitale netto operazioni, utile operazione fratto capitale netto operazione, oppure utili fratto capitale netto, capitale sociale, capitale patrimonio netto, capitale sociale più riserve, no? L'equity, cosiddetto equity, cioè quanto capitale di rischio c'è nell'azienda, anche questo l'avevamo visto.